Buonasera i principali titoli di questa edizione, operazione passo di salto 51 gli arresti, truffa all'Inps scoperta dalla Guardia di Finanza, 210 assunzioni false e poi si è insediata la commissione d'accesso alla comune di Colossimi, ieri l'ultimo saluto alla famiglia Giordano arrende. A Chiaravalle Centrale firmata la preconvenzione tra regione e comune sul finanziamento per la depurazione. Continuano i successi per il secondo concorso teatrale Città di Chiaravalle Centrale, in chiusura per lo sport, successo della Viola Reggio con il Legnano e vittoria Scaccia Crisi per il Soriano con l'Aurora Reggio Calabria. Tra poco. Apriamo dunque con la cronaca operazione passo di salto traffico e spaccio di droga a Catanzaro 51 gli arresti. Dalle prime luci dell'alba 500 tra poliziotti e carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della procura della DDA nei confronti di 51 soggetti resisi responsabili a vario titolo dei reati di produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha disarticolato una potente associazione operante nella zona sud del capoluogo. Holding dello spaccio divisa in livelli. Il provvedimento racchiude vari filoni di indagine separatamente condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Catanzaro e dalla squadra mobile della questura del capoluogo. Le attività sono state autonomamente e parallelamente seguite da ulteriori acquisizioni del commissariato di polizia di Lido e dalla stazione dei carabinieri di Catanzaro Lido, la cui competenza territoriale è sui quartieri a sud del capoluogo. Originati per un verso d'accertamenti sull'attività di un articolato sodalizio dedito ai reati in materia di stupefacenti prevalentemente operante nella zona sud del capoluogo. Le investigazioni per la cui realizzazione si è fatto ampio ricorso ad intercettazioni ambientali hanno consentito di individuare un'organizzazione criminale suddivisa in tre livelli. Fornitori, grossisti e spacciatori al minuto, costituenti una vera e propria holding dello spaccio. Una peculiare modalità operativa del gruppo è risultata essere la cessione in conto vendita delle sostanze stupefacenti, il cui regolare pagamento era garantito dalla forza di intimidazione esercitata dal sodalizio sugli spacciatori al dettaglio e sui consumatori. A scompaginare il collaudato modus operandi dell'organizzazione sono però intervenute le serrate investigazioni tecniche delle forze di polizia e la defezione in corso d'opera di uno dei capi del sodalizio, Santino Mirarchi, divenuto collaboratore di giustizia nel 2016, le cui dichiarazioni hanno arricchito e completato il già solido quadro probatorio acquisito, del quale fanno parte integrante anche numerosi arresti e sequestri di droga eseguiti nel corso delle attività. E adesso ci spostiamo a Corigliano, truffa all'Inps, 210 assunzioni false. La Guardia di Finanza di Corigliano Calabro, a conclusione di un'articolata e complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, ha smascherato una truffa ai danni dell'Inps perpetrata da una ditta individuale da una società cooperativa mediante 210 false assunzioni di dipendenti, con un danno alle casse dello Stato per oltre 350 mila euro. L'impresa presentava all'ente previdenziale falsi contratti di affitto di terreni riconducibili a soggetti ignari, completamente strani alla truffa, nonché fasulle, denunce aziendali, trimestrali, attestanti l'impiego mai avvenuto di operai, al fine di consentire l'indebita percezione di indennità di disoccupazione, malattia, assegno nucleo familiare e maternità. Nel corso delle indagini sono state acquisite informazioni dai proprietari dei terreni estranei alla truffa e attraverso l'analisi documentale sono state ricostruite le false dichiarazioni e comunicazioni all'Inps del falso datore di lavoro. Oltre 18 mila giornate lavorative mai effettuate e comunicate che hanno fittiziamente generato falsi costi di personale per circa un milione di euro e nessun ricavo. Constatata altresì l'indebita percezione di circa 12 mila euro a vantaggio del falso datore di lavoro, quali contributi pubblici erogati all'Arcea, finalizzate al sostegno dei redditi delle aziende agricole. Al termine delle indagini, il rappresentante legale delle imprese e della società cooperativa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari per truffa aggravata ai danni dell'ente previdenziale dell'Arcea nonché per falso, mentre i 210 falsi braccianti sono stati segnalati per il reato di truffa aggravata in concorso con il fittizio datore di lavoro. Commissione antimafia a Colosimi. Il ministro dell'Interno, su espressa richiesta avanzata dal prefetto di Cosenza, a seguito di quanto emerso dalla nota operazione Stige, ha nominato una commissione d'accesso composta da Vito Turco, vice prefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Cosenza, Giuseppe Zanfini, vice questore aggiunto presso la questura di Cosenza e da Francesco Trotta, responsabile del settore tecnico provinciale di Cosenza, sede coordinata del Proveditorato interregionale delle opere pubbliche Sicilia-Calabria di Catanzaro. Detto organismo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 143 del decreto numero 267 del 2000, dovrà porre in essere approfonditi accertamenti presso il Comune di Colosimi per verificare la sussistenza di elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori o dei dipendenti, tanto anche al fine di soddisfare esigenze di massima trasparenza. L'attività della Commissione dovrà concludersi entro tre mesi dalla data di accesso. Processo Fallara, fissata l'udienza in Cassazione. Arriva di fronte ai giudici della Cassazione il processo Fallara, che è visto già condannati in primo grado in appello l'ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, e i revisori di conti dell'epoca, Carmelo Stracuzzi, Domenico D'Amico e Ruggero Alessandro De Medici. La loro sorte si deciderà il prossimo 4 aprile di fronte ai giudici della quinta sezione della Corte di Cassazione. In appello per tutti quanti era stata confermata la condanna, sebbene con un lieve ridimensionamento della pena inflitta. Scopelliti, accusato di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, è stato condannato a 5 anni di carcere con interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre è stata fissata in due anni e quattro mesi la pena combinata ai revisori dei conti. Un lieve sconto rispetto ai 6 anni di carcere inflitti in primo grado all'ex governatore Giuseppe Scopelliti. Ai 3 anni e 6 mesi combinati a Stracuzzi, D'Amico e De Medici, che è in nulla però modificato il quadro emerso dal lungo dibattimento di primo grado. Dall'istruttoria è emersa una serie infinita di falsi, omissioni e abusi che hanno permesso alla dirigente Orsola Fallara, morta suicida nel dicembre 2011, di truccare il bilancio. Una manovra d'alto rischio fatta di artifici e regiri contabili che alla città ha lasciato in eredità un pesantissimo piano di rientro di durata trentennale. Approfitta dei festeggiamenti di carnevale per compiere un furto, 48enne di Mileto finisce ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Mileto, in collaborazione con quelli di Francica, hanno arrestato Francesco Rombolà, commerciante di 48 anni del luogo, per il reato di furto. Durante i festeggiamenti per il carnevale, i militari, dopo essere stati allertati dal titolare di una ditta che commercia prodotti per la macelleria, il quale aveva avvisato i carabinieri del fatto che in un magazzino di sua proprietà si stesse verificando un furto, sono intervenuti sul posto e hanno notato l'uomo mentre si allontanava dall'azienda a bordo di un Fiat Doblò. I carabinieri dunque hanno provveduto a inseguirle, una volta individuato nei pressi della sua abitazione, lo hanno sottoposto a perquisizione veicolare, scoprendo all'interno del mezzo gran parte del materiale rubato. L'arrestato si trova ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Stipendi ai dipendenti ASP di Reggio che avevano riportato condanne. La Corte dei Conti apre un'istruttoria. La Corte dei Conti di Catanzara ha aperto un'istruttoria sulla vicenda di alcuni dipendenti dell'ASP di Reggio Calabria che avrebbero continuato a percepire lo stipendio nonostante avessero riportato condanne. Lo ha detto il Procuratore regionale della Calabria della Corte dei Conti, Rossella Scerbo, incontrando la stampa prima dell'inizio della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Nella relazione del Procuratore si legge che sono state depositate le prime due citazioni per il risarcimento dei danni subiti dalla Regione per l'indebita utilizzazione dei fondi assegnati ai gruppi consigliari negli anni dal 2010 al 2012. La prima citazione riguarda l'ex consigliere regionale Luigi Fedele. L'altra invece ha come destinatari i componenti lo stesso gruppo. L'istruttoria contabile si avvalsa del materiale probatorio acquisito dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Strage familiare arrende il dolore di amici e parenti ai funerali della famiglia Giordano. Centinaia di persone hanno partecipato nella Chiesa di Santo Stefano di Rende ai funerali dei quattro componenti della famiglia Giordano, sterminati il 12 febbraio scorso. Sarebbe stato il capofamiglia Salvatore a uccidere ancora per motivi ignoti la moglie Francesca e i figli Giovanni e Cristiana per poi togliersi la vita. Le quattro bare campeggiavano davanti all'altare della Chiesa nella quale è stato chiesto ai cronisti di non entrare. Presenti i familiari delle vittime e il sindaco della città di Rende, Marcello Manna, che ha proclamato il lutto cittadino invitando le scuole a rispettare un minuto di silenzio all'inizio del funerale. Il parroco Don Michele Bucceri, affiancato da Don Domenico Sturino e da padre Emanuele De Deoniani, nella sua sintetica omelia ha pronunciato spesso le parole consolazione e perdono. La mesta celebrazione è terminata con un lungo applauso. All'uscita palloncini bianchi volati in cielo. Liceo classico Galluppi di Catanzaro invaso dall'acqua diversi danni. Squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Catanzaro sono state impegnate per un allagamento avvenuto nella struttura del liceo classico Galluppi. Causa alla rottura di una tubazione oltre 300 metri quadrati di locali adibiti a biblioteche ed auditorium sono stati completamente invasi dall'acqua. In una stanza situata nel semi interrato l'acqua ha raggiunto circa un metro di altezza. Ingenti i danni alla mobilia e dalla pavimentazione in parquet. Numerosi i libri andati distrutti nonché computer ed altro materiale presente all'interno della struttura. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è dedicata al ripristino dello stato dei luoghi con l'utilizzo di motopompe e pompe sommerse di aspirazione. Sul posto anche il personale dell'amministrazione provinciale. E adesso parliamo di sanità con questo servizio. Nei mesi scorsi ho criticato i decreti assunzionali che hanno mortificato l'Aspi di Reggio Calabria ma oggi per coerenza devo dare atto della bontà del nuovo decreto del commissario Scura. Lo dichiari il consigliere regionale Francesco D'Agostino in merito al decreto 55 2018. L'atto restituisce finalmente una parvenza di funzionalità in sanità prosegue D'Agostino dopo anni di sacrifici e di sofferenza del personale dei cittadini della nostra provincia. Dico una parvenza perché il nuovo personale autorizzato non potrà da solo sopperire alle carenze strutturali e logistiche in cui versano le strutture ospedaliere della nostra provincia. Mi riferisco ad esempio all'attacca 128 slice che doveva essere acquistata per sostituire la 64 ormai obsoleta e continuamente guasta che si trova a Polistena e ancora le tre risonanze magnetiche che dovevano essere installate nei presidi di Locri, Polistena e Melito ancora non pervenute. E questi sono solo alcuni esempi. Ma ritornando al decreto 55 del 2018 che complessivamente autorizza nuove assunzioni per 14 strutture complesse mediche di cui 5 all'Ocri, 5 a Polistena, 1 a Melito e 3 a Gioia Tauro e 37 medici nei vari reparti per Francesco D'Agostino dobbiamo ancora una volta far notare l'assenza di personale infermieristico e tecnico necessario a garantile ILEA. Speriamo che quest'ultimo gap venga al più presto recuperato e passiamo la palla al DG Brancati. Adesso non ci sono più scusanti. La macchina amministrativa dell'Asp deve correre e procedere con celerità. Una breve pausa a tra poco per le altre notizie. Riprendiamo con la politica locale. Conformemente alle direttive espresse nella riunione di inizio anno del coordinamento cittadino azzurro di Chiaravalle Centrale, Gregorio Tino ha provveduto a formalizzare la costituzione del gruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale della cittadina delle Preserre. L'ex sindaco che riveste la carica di coordinatore azzurro del comprensorio ha dunque posto la bandierina che certifichi il ruolo del partito berlusconiano nel civico consesso. L'atto è stato salutato con soddisfazione dalla coordinatrice locale Maria Teresa Sanso che ha precisato che Forza Italia rappresenta l'opposizione in Consiglio Comunale a Chiaravalle Centrale. La costituzione del gruppo rafforza quella che è la posizione azzurra rispetto alla stessa maggioranza. E adesso restiamo a Chiaravalle Centrale con la sigla della preconvenzione relativa al finanziamento per la depurazione. Siglata oggi negli uffici di Germanetto la preconvenzione tra la Regione Calabria e Dipartimento della Presidenza e il Comune di Chiaravalle Centrale relativamente al programma degli interventi nel settore della depurazione di cui al relativo finanziamento pari a 1.950.000 euro. Per l'amministrazione delle preserre erano presenti il sindaco Mimmo Donato, il vice sindaco Pina Rizzo e l'assessore comunale ai lavori pubblici Claudio Foti. L'atto spiega una nota segna di fatto l'avvio concreto delle procedure finalizzate a realizzare opere di collettamento attese da anni nelle zone rurali di Chiaravalle. Una progettualità da sempre perseguita dall'amministrazione comunale in carica inserita nei programmi elettorali è mantenuta come impegno preso di fronte alla cittadinanza. Auspichiamo, conclude il comunicato, che su questo argomento le altre forze politiche di Chiaravalle limitino le loro proverbiali manie di esibizionismo e di primogeniture posticce, come già accaduto per la Casa della Salute. I fatti per fortuna parlano da soli. E a Chiaravalle maschere e follia nell'originale Uomo e Galantuomo di Antonio Caponigro. Successo crescente per il secondo concorso teatrale interregionale Città di Chiaravalle Centrale, patrocinato dall'amministrazione comunale. Pubblico numeroso ed entusiasta per la seconda rappresentazione dell'anno ospitata sul palcoscenico del Teatro Impero. A conquistare gli applausi della platea i bravi attori campani della compagnia Il Teatro dei Dioscuri, che hanno rappresentato una originale versione del classico eduardiano Uomo e Galantuomo, introdotto dalla presentazione del professor Ulderico Nisticò in qualità di componente del direttivo della locale consulta comunale della cultura. Il regista Antonio Caponigro non si è volutamente discostato dal testo originario, ma sagaciamente introdotto tra le righe spiccate sfumature pirandegliane nel mouton dei personaggi, aumentando la brillantezza dei dialoghi e il ritmo sempre divertente della commedia. Il risultato è stato davvero molto apprezzato, tanto da suscitare la lunghissima ovazione degli spettatori a fine spettacolo. Centrale il tema della pazzia, sani che si fingono pazzi e pazzi che tornano sani, fratelli veri e fratelli finti, madri vere e madri finte, padri legittimi e padri illegittimi. Il tutto accompagnato da un suggestivo e surreale sottofondo di maschere parlanti in movimento e se stesse metafore dello sdoppiamento dell'essere umano tra finzione e realtà. Particolarmente soddisfatto per l'esito felice della serata il direttore artistico del concorso, Gino Capolupo, il quale ha rinnovato l'appuntamento con il teatro a Chieravalle Centrale ricordando la messa in scena di domenica prossima alle ore 18 e 30 a cura dei commedianti di Vibo Valencia. Sì, un classico di Edoardo, uomo e galantuomo, che è stato rivisitato o meglio una messa in scena un po' particolare perché il testo è stato rispettato pienamente perché non può essere modificato un testo, un classico del nostro teatro, però la messa in scena è particolare in quanto non ha delle scenografie vere e proprie ma le scene si montano di volta in volta, sono gli stessi attori che montano le scene e c'è un gioco un po' pirandelliano che mette in evidenza la realtà e la finzione, quel filo sottile che c'è fra la realtà e la finzione che passa poi attraverso la pazzia. Ecco qui il confronto con Pirandello, avremo molti spunti anche perché il grande Edoardo è stato contagiato da Pirandello, aveva iniziato a fare determinati lavori, poi la collaborazione con Pirandello lo ha portato a fare i lavori classici, quelli che sono venuti in un secondo tempo. Questa compagnia è la compagnia Teatro dei Dioscuri, che è di sala Consilina, quindi per la seconda volta ospitiamo una compagnia campana che presenta appunto Uomo e Galantuomo di Edoardo De Filippo. Un bel successo, la prima, il pubblico ha partecipato con grande entusiasmo, è insomma una stagione che ha il viatico importante per continuare così. È partita bene e io sono certo che continuerà allo stesso modo perché io sono certo che il pubblico apprezzerà anche il lavoro di questa sera che è un po' particolare, è un po' particolare perché il pubblico assisterà a un teatro leggermente diverso come impostazione scenica e quindi è anche una novità. È un lavoro di ricerca che questa compagnia sta facendo e che un po' fanno tutte le compagnie UILT. La caratteristica delle nostre compagnie, le compagnie UILT è proprio questa, che c'è una continua ricerca verso nuove forme di teatro, tenendo conto però ovviamente che lo spettacolo deve essere sempre sul brillante. Ecco, deve divertire il pubblico, però il pubblico deve lanciare anche dei messaggi al pubblico e è quello che noi cerchiamo di fare attraverso le nostre compagnie UILT. Sì, diciamo noi abbiamo rispettato in ogni caso il testo integrale di Uomo e Galantuomo anche perché non può essere toccato al momento perché non è di pubblico dominio, però ci è piaciuto rifarci a tutte e due le versioni di Edoardo, una del 22 e l'altra successiva perché comunque sono due versioni molto interessanti, la prima più napoletana ovviamente, la seconda più italianizzata, ma ci sono aspetti interessanti in entrambe le edizioni e quindi ci è piaciuto mettere in scena questo Uomo e Galantuomo. Piuttosto l'operazione importante che abbiamo fatto, che riteniamo coraggiosa e speriamo che piaccia questa sera, ovunque siamo stati finora è andata benissimo e che abbiamo dato un taglio di regia allo spettacolo molto particolare, nel senso che abbiamo dato una pennellata di pirandellismo alla messa in scena, l'abbiamo resa un po' più pirandelliana perché il testo ce lo permetteva, in effetti Uomo e Galantuomo è giocato sul sottile gioco della, chiedo scusa per la ripetizione di parole, però il gioco teatrale qui è fondamentale, della fantasia e della realtà, della fantasia o della follia e della sanità di mente. Si è folli per vari motivi, si è folli per bisogno, bisogno naturale, bisogno fisiologico, il mangiare, il nutrirsi, tipico della compagnia teatrale di scavalca montagna come sono questi poveri guitti del primo atto, ma c'è anche la bugia e quindi ci sta anche la pazzia, la menzogna che chiaramente diventa una necessità etica, morale perché chiaramente, soprattutto come si vedrà poi nel secondo atto, ci sono alcuni tabù, alcuni principi, alcune regole possiamo dire sociali che vengono praticamente non rispettate e c'è la necessità quindi della pazzia. Su questo sottile filo viene giocato l'intero spettacolo e ovviamente anche la scenografia, le luci, i costumi, proprio l'intera messa in scena vogliono dare questa dimensione di questo duplice significato. Ecco qui a Chiaravalle il secondo concorso interregionale, partecipate anche voi, ovviamente il pubblico poi dovrà esprimere il suo gradimento con una premiazione finale, al di là di questo però c'è anche questa voglia di un comune che investe nella cultura e soprattutto nel teatro. No, questo per noi è molto importante, ieri sera pure abbiamo seguito a Pizzogalo, abbiamo rappresentato il nostro spettacolo, abbiamo visto e sentito il pubblico in uno spazio ovviamente è diverso da questo, un teatro un pochettino diciamo meno teatro da un punto di vista di contenitore, però splendido allo stesso modo proprio perché il pubblico e l'attore, questi sono i due elementi fondamentali di uno spettacolo, sono riusciti ad entrare in una grande empatia. Questa sera abbiamo proprio anche la cornice strutturale che è molto bella e particolare, soprattutto ci teniamo di nuovo che si possa riscaldare l'ambiente, ci possa essere questa empatia. Poi il concorso a noi piace ovviamente, ci vanno a piacere i premi, ma il miglior premio sicuramente è la risposta del pubblico, è l'attenzione, la risata, l'applauso e poi il silenzio dell'attesa di quello che sta avvenendo sul palcoscenico. Il lavoro del resto, come Galantuomo, ha anche una duplice connotazione, comico e drammatico, quindi come piaceva tanto a Edoardo, mentre si ride a un certo punto ti arriva comunque il famoso cazzotto nello stomaco e quindi lo spettatore resta un attimo sbalordito dalla cosa, dalla vicenda. E a Chiaravalle ritornano i quadri della Via Crucis al convento. In occasione del restauro dei quadri della Via Crucis si è tenuto presso il convento dei frati minori Cappuccini di Chiaravalle Centrale in un importante incontro, preseduto dal ministro provinciale Fra Pietro Amendola, dal guardiano padre Giovanni Loria, dal restauratore Cosentino Francesco Aiello e da padre Michele, biblista, padre Giacomo, due padri Cappuccini che hanno relazionato, il primo sul significato della Via Dolorosa nei Vangeli, l'altro sull'aspetto storico della Via Crucis e la tradizione francescana. Il restauratore Francesco Aiello, tramite anche accurate immagini, ha spiegato le varie e delicati fasi del restauro, durato dieci mesi. Sentiamo il guardiano, padre Giovanni Loria e Francesco Aiello. Sì, pace e bene a tutti voi. Questa sera abbiamo inaugurato e presentato soprattutto i quadri della Via Crucis che sono presenti nella nostra chiesa conventuale dei Capuccini di Chiaravalle. E l'abbiamo fatto attraverso due belle catechesi. Una catechesi biblica tenuta da padre Michele Mazze, un sacerdote capuccino della nostra provincia di Calabria. E padre Giacomo Faustini, vostro compaesano di Chiaravalle, che ha tenuto il suo intervento sulla storia e la tradizione della Via Crucis. E poi abbiamo avuto anche la gioia di ascoltare dalla viva voce del restauratore anche le fasi che hanno portato al lavoro di ripristino, di restauro. E oggi possiamo ammirare, grazie alla sua maestria, questi pannelli in terracotta e in cartapesta leccese restaurati. E ci sono stati consegnati nella loro bellezza originaria. E da domani, prima domenica di quaresima, saranno esposti di nuovo nella nostra chiesa dove i fedeli potranno soffermarsi per meditare sulla passione del Signore. Un lavoro sicuramente certosino. Sì, un lavoro certosino, ci spiegava il restauratore, perché la maggior parte di questi quadri, di questi pannelli, fatti anche con legno, erano completamente consumati dal tarlo, dal tempo, dall'umidità. Quindi un lavoro che è durato, come ci ha spiegato il restauratore, circa 8-9 mesi. E grazie a Dio oggi le abbiamo qui dinanzi ai nostri occhi e chiunque adesso potrà ammirarli nella loro bellezza. E sì, è un lavoro che è durato circa 10 mesi, insomma, un lavoro certosino, però ecco, con l'aiuto del Signore siamo riusciti a arrivare a questo risultato, insomma. È stato fatto un restauro conservativo, quindi non abbiamo stravolto questi bellissimi pannelli e quindi abbiamo cercato di recuperarle, insomma. Questi sono pannelli che risalgono alla fine del XIX secolo e gli autori sono la ditta Longo di Lecce. Sono delle formelle in terracotta, policroma, e sono applicate a delle tavole di legno e impreziosite da una cornice di cartapesta leccese. Quindi sono delle opere importanti, insomma. Quindi ero riuscito a fare le dita, i piedi... Sì, sì, sì. Abbiamo fatto... È stato praticamente perché c'erano delle parti mancanti, quindi la testa, le mani, i piedi, quindi abbiamo fatto un lavoro veramente certosino, abbiamo realizzato tutto in terracotta. Poi l'abbiamo fatto... Poi la cosa più importante è stato il trattamento anti-tarlo perché queste via cruci si stavano perdendo perché i tarli ormai avevano distrutto il legno sul quale poggia il pannello in terracotta, insomma. Siete riusciti a fare anche i colori? Certo, certo. Sì, sì, certo. Abbiamo integrato i colori, quindi non sono state ridipinte, ma abbiamo messo il colore dove mancava, insomma. Questo azzurro che non è il nero, la morte che resuscita... Questa è una particolarità di questa stazione, cioè solitamente si dice che quando Gesù morì in croce si fece buio su tutta la terra, in questo caso abbiamo un cielo azzurro, sereno, come se l'autore volesse dare proprio questo spazio alla trascendenza, alla resurrezione, alla speranza, insomma. Stiamo parlando della dodicesima stazione. Dodicesima stazione, esatto. Gesù morì in croce. E adesso lo sport basket serie A2. Il palacalafiore torna a baciare la viola che piega l'ostica legnano con il punteggio di 75-61. I nero-arancio di coach Calvani vincono il confronto contro una delle squadre più attrezzate della stagione. Giunta arriva allo stretto a ranghi completi. Inizio complicato per i reggini, apparsi in difficoltà nella costruzione del gioco e in fase realizzativa. I lombardi tengono bene in difesa ed appaiono più ordinati nella gestione della palla e al tiro. Nelle azioni successive il quintetto di casa ha diverse occasioni per recuperare ma non riesce a concretizzare. Ne approfitta Legnano che trova il massimo vantaggio sfruttando i canestri di Raivi e Toscano. Il momento magico degli ospiti si interrompe grazie a Baldassarre che scuote i reggini con una fiduciosa tripla. Clea per il porto è di un parziale di 10-0 che ripolti il punteggio in sostanziale equilibrio. Nel secondo quarto con la gara riaperta si vede all'opera anche Roberts. La guardia nero-arancio sblocca il proprio tabellino consentendo ai reggini di conquistare il primo sorpasso 25-21. La partita resta molto combattuta anche perché Raivio mantiene fede a quanto fatto di buono finora in campionato. Legnano resta agganciato alla viola che però mantiene un minimo vantaggio fino alla conclusione della seconda frazione. Le percentuali di metagare riconsegnano ai padroni di casa un migliore controllo del tiro sia da 2 che da 3. Al ritorno sul parquet dopo il riposo i nero-arancio mantengono un buon ritmo di gioco. La difesa più attente, i canestri di Roberts e soprattutto di Petcher, tengono la viola avanti. Una tripla di Baldassare riporta i reggini al massimo vantaggio. La relazione dei Lombardi non si fa attendere. Mosley e compagni confezionano un parziale di 0-8 che spaventa il pubblico di casa. Ci pensano Rossato e Roberts a riportare tranquillità chiudendo il quarto sul 56-48. L'ultima frazione si apre ancora con Petcher protagonista sotto i tabelloni sia difensivi che offensivi. Il pivot di Coccio e Galvani appare sempre più una spina nel fianco per Legnano. E anche quando arriva il contributo della difesa, viola sul 14 con una tripla di Capitan Fabbi. Il momento positivo dei reggini dà fiducia a tutto il quintetto che trova spesso facili occasioni di tiro. Baldassare ferma il più 20, 72-52, a poco meno di due minuti dalla conclusione mettendo il sigillo alla partita che finisce con il punteggio di 75-61. E chiudiamo con il calcio il riepilogo del campionato di eccellenza. Nel massimo campionato calabrese il Locri non vince ma dietro si fermano un po' tutte, eccezione fatta per il Cotrone che batte la mantetta e allona da vicino il siderno. Perde ancora il Gallico Catona a Trebisacce mentre pareggiano lo Scalea e Cutro-Sersale. La ruzzese perde con la Reggio Mediterranea e domenica prossima match da ultima spiaggia per i Cosentini in casa contro il Cutro. Vince il Soriano contro l'Aurora-Reggio e proprio di questo match andiamo a vedere le azioni più interessanti. Prima parte della partita per così dire di studio con i padroni di casa privi di Viscomi e Clasadonte che non sembrano trovare le giuste trame per impensierire la formazione ospite. Priva anch'essa di tre pedine importanti, Tuzzato, Gatto e Mangiola. Primo squillo al tredicesimo con Angotti che colpisce debolmente su cross di Chiarello. Al venticinquesimo ancora Angotti a fallire da buona posizione ma l'arbitro dell'incontro, il signor Sita, aveva già fischiato il fuorigioco. Ancora Soriano al trentesimo e ancora Angotti che solo davanti alla gana calcia al lato, forse con deviazione del numero uno ospite. Di nuovo il numero nove di casa protagonista in negativo al trentatreesimo, questa volta spedisce alto ancora da ottima posizione. Il primo tempo si chiude con questo colpo di testa di Romeo che finisce alto sulla traversa. Inizio ripresa con i due tecnici Gregoraccio e Giovinazzo che non apportano sostituzioni per cui si riparte dai 22 iniziali. Già all'ottavo minuto episodio dubbio in aria Regina con Macri che aggancia la sfera e viene colpito da un difensore ospite. Fallo o no? L'arbitro decide per la seconda opzione, anche se le immagini lasciano più di qualche dubbio. Al ventesimo arriva meritato il vantaggio locale, Macri si invola, palla al piede sulla sinistra e pennella questo assist in aria con Angotti che questa volta colpisce di testa la sfera facendola carambolare alle spalle dell'incolpevole Laganà dopo aver battuto sul palo alla sinistra dello stesso portiere. A questo punto Mister Giovinazzo effettua due cambi, forse un po' troppo tardivamente anche perché ormai la partita è incanalata sul binario giusto, Vibonese tant'è che prima al trentesimo c'è un gol annullato a Romeo per un fallo precedente in aria. Poi al trentatresimo arriva il raddoppio con questa sfortunata deviazione di Oliveri nella propria porta. Nulla più da aggiungere Soriano che in camera tre preziosi punti staccando di quattro punti il quintultimo posto e di quindici il penultimo. Ad oggi l'Aurora Reggio sarebbe retrocessa ma domenica c'è il derby con la Reggio Mediterranea e l'undici di Mister Giovinazzo dovrà assolutamente ripetere la prestazione offerta contro l'Acri. Sentiamo adesso le interviste allo stesso Mister Giovinazzo e al portiere del Soriano Piccolo. Allora Mister Giovinazzo diciamo che all'inizio della partita dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro l'Acri forse ci si sarebbe aspettati un po' di più, forse il terreno di gioco, qualche infortunio di troppo, la sua squadra almeno nei primi 45 minuti non è sembrata scendere in campo con lo stesso piglio. Ma non sono d'accordo su questo, lì i due cambi sono stati fatti, stavamo facendo un cambio per cercare di continuare con l'equilibrio che avevamo noi. Poi abbiamo subito il gol e abbiamo cambiato proprio assetto, ho fatto i due cambi proprio perché abbiamo subito il gol subito prima di fare la sostituzione di Cormaci. Direi che non siamo stati brillanti come lo siamo stati la settimana scorsa. Noi siamo una squadra che se riusciamo a prendere palla le ripartenze riusciamo a farle bene. Abbiamo provato anche oggi anche se onestamente non abbiamo fatto la migliore partita. Abbiamo concesso parecchio anche sui due tagli di Angotti al primo tempo e avevamo rischiato di subire i gol. Quindi già a livello mentale non eravamo predisposti così come eravamo la settimana scorsa. Non parlo dell'essenza perché non sono abituato a farlo. Quelli che giocano devono essere pronti a fare quello che dobbiamo fare da squadra. Non l'abbiamo fatto oggi in alcuni frangenti, abbiamo subito a volte forse più per errore nostro e per qualche errore di troppo nostro anche nei disimpegni, anche nelle ripartenze. Abbiamo sbagliato parecchio rispetto anche alla gara di domenica. La prendiamo per buona quello che è di buon estate e andiamo avanti perché sappiamo che sarà dura, sarà difficile, ogni gara sarà una battaglia come questa di oggi. A questo punto, mister, c'è una partita in meno da giocare. È ovvio che la situazione della Aurora non era già bella questa domenica, adesso magari lo è ancora di meno. Bisogna lottare non solo per evitare l'ultimo posto ma addirittura per cercare di rientrare nei dieci punti classici che eventualmente vi dovrebbero dividere dalla quintultima o quantomeno per cercare di fare i play-out? Diciamo che ci dobbiamo guardare da tante cose, però lo sapevamo, è una scommessa e ogni gara sarà disputata al massimo per cercare di arrivare in una posizione e quantomeno di tenere la posizione dei play-out, lo sappiamo già, la società è conscia. Cercheremo in questa settimana invece di recuperare qualche acciaccato di troppo che ci può dare una mano. Una squadra molto giovane, anche chi ha giocato non è grande, non ha l'esperienza tale, infatti in alcuni frangenti di partita abbiamo peccato proprio in questo. Aurora invece, a differenza nostra, è una squadra molto esperta che si vede che in alcune sottigliezze riescono a fare la differenza e poi a vincere le partite. Questo è quello che anche, tra le altre cose, manca a questa squadra. Se riusciamo a recuperare anche qualche uomo è una cosa buona perché possiamo giocarci le partite leggermente in maniera diversa. Signor Ministro, l'ultima domanda. Lei ha tante esperienze in questi campi, sicuramente li conosce meglio di tante altre persone. Secondo lei questa squadra, la sua Aurora, ha i numeri per poter arrivare, non dico a una salvezza tranquilla, ma quantomeno ad arrivare in pensieria le altre squadre per giocare i play-out? Noi abbiamo fatto una partita domenica contro una squadra, una delle più forti del campionato. Non è stato un caso che abbiamo vinto perché se questi ragazzi entrano con la mentalità giusta e hanno quel coraggio giusto, magari la prima azione va bene. Anche a livello morale non sono predisposti ad avere un'esperienza tale come la può avere un ragazzo o qualcuno che ha fatto più campionati del genere. Quindi magari vanno in affanno se una palla la sbaglia, ma anche sotto questi aspetti bisogna lavorare. Io penso che ci sono le condizioni per potercelo giocare. Ripeto, la gara di domenica non è stato un caso. Paradossalmente sul campo in sintetico riescono a fare l'unica cosa che forse di buono o una dote che ha questa squadra è la ripartenza. Riescono a farla bene perché sono tutti brevilini, sono bravi con la palla al piede. Oggi hanno sofferto in questo perché quando non hanno lo sprint e la possibilità di poter fare quello che sanno fare, e vanno in difficoltà, noi ce la giocheremo. Penso che ci sono le condizioni per poter cercare di fare la partita di play-out per poi giocarci tutto in quella partita. Allora, Salvatore Piccolo, qualche defezione all'inizio della partita? A Viscomi si è aggiunto anche Piero Casadonte, un centrocampo da reinventare. Il mister Gregoraggio l'ha fatto alla grande, credo che questo 2-0 ci stia tutto. Sì, intanto saluto a tutti i telespettatori. Ci sta tutto perché l'abbiamo dimostrato nel campo, io non ho corso nessun pericolo, la squadra c'era, abbiamo sbagliato due e tre gol nel primo tempo, lo sappiamo che l'Aurora è venuta qua giustamente a fare il bottino pieno perché è messa male in classifica, però noi avevamo bisogno di tre punti e ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, abbiamo pressato un pochettino di più e abbiamo raccolto questi tre punti. E' giusto che, come hai detto tu, Casadonte e Viscomi non li regala nessuno e noi oggi li abbiamo regalati perché purtroppo avevano degli acciacchi, Viscomi è fermo, come sa, per una ventina di giorni. Piero ha avuto un problemuccio al ginocchio, già ha saltato la trasfetta di Luzzi, però oggi pare che quei 20 minuti che è entrato si è visto bene. Senti, a questo punto una partita in meno da giocare, 29 punti in classifica. Io credo che voi abbiate fatto un tabellino per l'eventuale salvezza oppure, come dite, vi vedete alla giornata cercando di fare punti partita dopo partita? Sì, guarda Gregorio, noi lo sai benissimo pure tu, questa è una squadra attrezzata per raggiungere la salvezza il prima possibile. Abbiamo avuto dei problemi per otto partite di fila, abbiamo raccolto pochissimo. Il campionato d'eccellenza non lo scopro io, io l'ho già fatto, c'è chi l'ha fatto, è un campionato difficilissimo. Non è niente scontato, abbiamo fatto 29 punti ad oggi, ne potevamo avere qualcuno in più, però non ci lamentiamo. Noi cerchiamo di sfruttare il fattore campo con le altre squadre, sapendo che adesso andiamo a fare un po' di partite proibitive, però noi ce la metteremo tutta a raccogliere il massimo, sia fuori che soprattutto in casa. Senti, ultima domanda, che poi non è una domanda, un applauso a questo pubblico. Vi sostiene dall'inizio alla fine, ogni domenica in casa, come dire, ci sono questi 150-200 spettatori che vi sostengono? Sì, sì, ce ne sono anche 50, pure qualcosina in più fuori, è un pubblico stupendo. Io è il quarto anno che sono qua e dedico la vettoria a loro, a Soriano e se me lo permetti, alla mia bambina che è nata il 20 gennaio, non vedevo l'ora di raccogliere i tre punti il primo possibile per dedicarli a lei, questa vettoria. E tanti auguri da partite, Leonia. Grazie, grazie, una buona serata, arrivederci. Bene, questa era l'ultima notizia, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie.